I carabinieri stanno indagando sul misterioso incendio di una Smart, avvenuto poco prima della mezzanotte a Fondi, in via della Ripa, in località alle Querce. L'auto, parcheggiata nei pressi dell'abitazione del proprietario, un 25enne di Fondi, è stata semidistrutta dalle fiamme, provocate con tutta probabilità da un liquido infiammabile. Il fuoco si è steso anche ad una Nissan, anch'essa danneggiata, che era parcheggiata accanto alla Smart. È probabile che si sia trattato di una vendetta, di un atto di ridorsione per qualche sgarbo. Il proprietario della vettura ha negato di aver ricevuto minacce di qualsiasi genere.